L'autonoleggio Bertini opera nel settore noleggio con conducente e servizio taxi dal 1986, operando nell'area di Milano e Interland. Autonoleggio Bertini I servizi offerti rispondono alle richieste di un'ampia clientela, privati, aziende, organizzatori e ospiti di eventi sportivi, televisivi e teatrali. Grazie alla collaborazione di personale qualificato e a un parco auto sempre aggiornato, l'autonoleggio Bertini offre un servizio puntuale ed efficiente, supportando qualsiasi richiesta in ordini di numero, tipologie di vetture e di servizio in territorio italiano ed estero. Il parco auto è composto da auto, monovolume e minibus Mercedes-Benz. Offre noleggio auto per cerimoni con autista.